Contratto! 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 La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici è bloccata per la netta chiusura di Confindustria e Assisal su diversi punti rilevanti. Vorrebbero infatti rinnovare il contratto senza riconoscere al 95% dei lavoratori interessati nessun aumento, rendendo così inutile e residuale lo stesso contratto nazionale. Così FIMCISL, FIMCGL e FIMWILL unitariamente ribadiscono la volontà di giungere ad un contratto in grado di rinnovare qualitativamente le relazioni industriali, migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'occupazione, far ripartire gli investimenti ed avviare una nuova politica industriale. Ci aspettiamo che da questa ennesima mobilitazione arrivino finalmente dei risultati e si sblocchi la trattativa a livello nazionale. Le risposte che avete avuto finora? Le risposte in realtà sono state sostanzialmente quella di una chiusura totale da parte di Confindustria sul tavolo nazionale, nonostante le manifestazioni regionali, nonostante gli scioperi, nonostante i presidi. Noi continueremo a essere in piazza fino a quando sarà necessario. Una situazione che nonostante i diversi presidi attuati finora continua a rimanere la stessa? Continua a rimanere la stessa perché Federmeccanica è ingessata sulle sue posizioni e non vuol fare l'aumento salariale. Questo significa, se forse non lo hanno capito, che ingessare l'aumento salariale significa non spendere i soldi e quindi anche verso di loro ci sarà una ritorsione perché se loro producono ma i lavoratori non comprano, a chi la vendono? Loro sono ingessati su questo fatto e noi non cediamo a questa provocazione di Federmeccanica. Siamo qui per fare questo picchetto, continueremo a farlo e non escludiamo di andare a Roma a settembre.